Noi associazioni siamo arrabbiatissime, ecco non si può parlare ancora di bloccare la nuova pediatria, è assurdo. Le condizioni in cui versa oggi la pediatria di Padova sono condizioni terribili. La nuova pediatria deve essere fatta, punto. Sono pronti a qualsiasi azione a Padova, a Venezia o a Roma perché la costruzione della nuova pediatria non rallenti. Secondo il forum che raduna le 16 associazioni amiche della pediatria di Padova, il rischio c'è dopo che alcune associazioni ambientaliste e paesaggistiche e l'ordine degli architetti sono andate al Ministero per i beni culturali a criticare il progetto del nuovo edificio. Una torre di 8 piani e 31 metri di altezza che sorgerà nei pressi delle mura di Padova, a una distanza che però rientra nei limiti previsti. Progetto già approvato dalla sovrintendenza nella conferenza dei servizi e finanziato con 61 milioni di euro dalla Regione. Chi critica la costruzione della nuova clinica, rallentandone l'iter, dice il forum, forse non sa quale sia la situazione attuale dei bambini ricoverati e dei loro genitori. In queste stanzette, la sera, quando si apre il letto della mamma, il medico deve fare le acrobazie per arrivare al letto del piccolo. Tutta la città deve mobilitarsi per superare tutto ciò al più presto. Sentite cosa sta succedendo a pediatria da quando è stata demolita la palazzina di pneumologia. Alcuni studi medici sono stati collocati proprio a pediatria. Non c'è spazio per comunicare le diagnosi ai genitori, quindi vengono fatte in un corridoio dove tutti possono ascoltare, dove la privacy delle persone ma anche l'ascolto da parte dei genitori di cose così importanti viene fatto in un corridoio. È una cosa disumana, è una cosa inaccettabile. Non si può nemmeno piangere a porte chiuse e lontano dai figli. Tra i genitori c'è chi è in lotta da anni contro la malattia. Le spalle sono larghe. Certo questa cosa non ci ferma, andremo avanti, siamo disponibili ad andare anche a Roma a metterci con le fotografie della pediatria attuale di Padova e a farle vendire al ministro.